35. Che cosa interessa alla legge? Ho letto che in Italia migliaia di embrioni umani sono conservati nei congelatori. Che fare di questi bambini virtuali? Buttarli via, donarli a madri sterili, destinarli alla scienza o assegnarli a volontari e antiabortiste? 36. Intanto i bambini virtuali attendono nell'azoto liquido una decisione sulla loro sorte. Commento. Molti credono che la nascita in provetta sia l'effetto di una creazione e non di una reincarnazione. 37. Per i maestri, invece, è la vita assoluta che tutto permea, che trova nella provetta, le condizioni per manifestarsi. 38. Un individuo nasce in provetta perché ha necessità di incarnarsi come chi nasce in un utero. Alla legge non interessa il modo dell'incarnazione, ma solo l'incarnazione. 39. Alla legge non interessa il modo dell'incarnazione, ma solo l'incarnazione.